Primo maggio 2015, la festa dei lavoratori, cari soci, cari soci, auguri, auguri a tutti, auguri a questa festa importantissima, ma soprattutto tanti auguri a tutte le persone che stanno qui, che collaborano e lavorano e ci permettono ogni giorno di andare avanti in questo splendido sottalizzo sportivo. Il Due Ponti è con te, non ti lascia mai, anche in questo giorno importante di festa. Viva lo sport, viva il benessere, viva il Due Ponti!